Ciao, sono Michele Canali e questo è Canale di Storia, lo spazio YouTube della storia in tutte le sue forme. In particolare in questo video ti voglio parlare della religione nella preistoria. Questo campo di studi esercita un fascino straordinario, risalire alla religiosità dell'uomo preistorico, capire i sentimenti religiosi che lo animavano e anche le forme religiose che praticava. È possibile ricostruire il pensiero religioso della preistoria o anche una teologia? Quella preistorica è una religiosità originaria, legata alla natura, a sentimenti vivi, ad un contatto diretto con il divino, più silenzioso e intimo rispetto per esempio quello attuale. Una religione certamente lontana da dottrine formate, da prassi rigide, le forme religiose preistoriche appaiono più istintive, più diretti, più naturali e forse per questo anche più sincere e anche più affascinanti. Iniziamo col dire che le fonti su cui si basa la preistoria sono cosiddette le fonti mute. Sono i siti archeologici, ritrovamenti, le ossa o l'etnografia che studia i primitivi attuali. Sono fonti non scritte che si adattano poco a rispondere alle domande che ci siamo posti prima e probabilmente non ci consentiranno mai di avere risposte precise e definitive. Difficilmente arriveremo mai a conoscere la visione del mondo, le idee della vita, della morte, il cuore dell'uomo preistorico. Ma questo non significa che non c'erano, ma che non le conosceremo mai noi. L'etnologia oggi è unanime nell'affermare che non avremo mai spiegazioni definitive sull'origine della religione, anche se altrettanto concorde nell'affermare che l'umanità primitiva è legata alla religione. Anzi, molto probabilmente, essa era conosciuta e praticata fin dal primo uomo sulla terra. Noi sappiamo che l'uomo, 200.000 anni fa, condivideva la terra insieme a tanti altri animali. Non aveva una supremazia, anzi spesso era preda e vittima di animali di ben progrossa taglia. Usava il fuoco, con il quale cucinava cibi che gli risultavano indigesti, come il frumento, il riso, ma che era una creatura marginale nel mondo. Si contavano circa un milione di individui su tutta la terra. Ma questo animale, della famiglia degli ominidi, dimostrò fin da subito diversi gradi di evoluzione. E una delle caratteristiche che maggiormente lo differenziava dagli altri animali era che inumava i propri morti. E quindi già lo faceva l'uomo di Neandertal, l'uomo delle caverne, molti millenni prima dell'affermazione dell'uomo sapiens, che si affermò circa 70.000 anni fa, e che possiamo dire è il nostro genitore più diretto. Nel paliolitico, nel periodo medio del paliolitico, quindi, ritroviamo le prime attenzioni dell'uomo di Neandertal, chiamato così, giusto per essere specifici, perché viveva nella valle di Neander, oggi Dusendorf, in Germania, che aveva questa attenzione verso la morte. Anzi, possiamo sostenere con sicurezza che l'uomo di Neandertal aveva delle caratteristiche. Era un cavernicolo ed era un inumatore di morti. La sepoltura poi conobbe una sua evoluzione e, nell'epoca neolitica, la cura di preservare i morti, di assicurare loro una dimora, un'esistenza successiva, divenne una preoccupazione dominante per l'umanità. Si usarono grotte, cave naturali e, una volta deposto, il feretro veniva anche murato. Il morto è sepolto con i suoi oggetti personali, lo ritroviamo con armi, con gioielli, e spalmato spesso con una sostanza argillosa, locra, di color rossa, colore del sangue. I morti erano collocati in una posizione di riposo, la testa appoggiata sull'avambraccio destro, le gambe ripiegate verso il petto, posizionati nell'atteggiamento del sonno, probabilmente perché la morte veniva concepita come un sonno, come un trapasso, una specie di sonno che poi risvegliava il defunto in un altro mondo. La cura del morto era un dovere sociale. Il culto dei defunti ci racconta anche che non era la paura, come spesso pensiamo, a muovere questa religiosità, questa forma di religiosità, bensì il rispetto, l'affetto, il desiderio di voler prolungare la vita del morto. Spesso il teschio, il cranio del parente defunto, veniva preso e trasportato lungo le varie per emigrazioni, proprio perché non esisteva anche l'orrore, per esempio, per lo scheletro. Le preoccupazioni dell'uomo preistorico, quindi, non possiamo relegarle esclusivamente nella ricerca di cibo, nella lotta per la sopravvivenza contro gli altri animali. Ma perché? Perché per troppo tempo si è pensato che l'uomo primitivo fosse un uomo brutto, semi animalesco, senza idee e senza valori. Ma evidentemente non era così. È emerso un vasto campo di studio legato alle relazioni familiari, agli affetti, al rispetto verso gli antenati, in cui la religione aveva un ruolo centrale. Nella tribù, nel clan, il ruolo di accompagnare con affetto i defunti è dedicato, è riservato alla religione, che ha il compito quindi di sacralizzare certi momenti della vita. Attraverso i ritrovamenti poi, confrontati dall'etnologia, si è anche dimostrato che era diffusa la fede, meglio dire la credenza, nella sopravvivenza dell'anima. Era radicata cioè la convinzione della sopravvivenza alla morte. L'uomo cavernicolo, quindi, aveva la certezza che esisteva un principio, indipendente dal corpo, che noi oggi chiamiamo anima, che gli sopravviveva e che conduceva una vita propria in un altro mondo. Le ricerche hanno anche poi decretato che l'uomo del paleolitico era già monoteista. Va quindi superata una visione della storia delle religioni che vuole un percorso lineare che va dal politeismo al monoteismo. Gli studi condotti sui boscimani, nella terra del fuoco in Australia, il loro folclore e la loro ritualità, hanno dimostrato la fede in un solo Dio. Di questi studi protagonista fu l'archeologo Beckler, che trovò anche nelle grotte casse di pietra contenenti crani di orse, teschi, sicuramente sacrifici fatti per la divinità, per un essere superiore. Quindi si può sostenere con certezza che il Neandertal credeva in un unico essere superiore. Si ritrovano sempre teschi, crani, proprio perché la testa, il cervello era considerata la parte più importante dell'uomo. Non dobbiamo però fare l'errore che questi culti monoteistici fossero, come dire, dei precursori di quelle che poi successivamente sono le fede monoteiste. Infatti non possiamo parlare di un concetto di fede o di salvezza o di redenzione, come poi sarà in seguito. L'ultimo aspetto, l'arte legata alla religione. La religione preistorica ci ha lasciato delle forme artistiche di incredibile bellezza. Addirittura stupefacente, potremmo definire la grotta di Lascaux, un complesso di caverne nella Francia meridionale. Siamo nella regione di Dordogna, villaggio di Montignac, scoperto nel 1940 e oggi rappresenta uno dei maggiori patrimoni legati alla preistoria. Al loro interno sono conservate vere e proprie opere d'arte parietali di circa 17.000 anni fa. È molto probabile immaginare che gli uomini della caverna si radunavano in una grotta così, la consideravano un tempio e supplicavano l'esito favorevole della prossima caccia. Infatti venivano disegnati personaggi, animali, tore, tori, vacche, mucche. Altro grande regalo preistorico offerto all'umanità sono le grandi costruzioni del Neolitico, la più nota delle quali è la cosiddetta Stonehenge, presso Salisbury in Inghilterra, ma anche in Bretagna esistono delle costruzioni simili, imponenti. Secondo alcuni studiosi ci sarebbe molto mistero, dubbi circa le vere origini di queste straordinarie composizioni in pietra, anche se gli studi ci parlano probabilmente, molto probabilmente, di santuari, santuari in pietra previsti per il culto e per le cerimonie all'aperto. Quindi è un'epoca, questo, in cui l'uomo ha davvero alzato gli occhi al cielo, ha abbandonato le caverne e ha iniziato a venerare le forze della natura, le potenze cosmiche. Infatti diversi disegni rinvenute sulle pietre ci tramandano l'interesse verso gli avvenimenti atmosferici, spesso è il sole che viene disegnato. Quindi, definitiva, per chiudere, gli studi sulla religione preistorica ci hanno insegnato che prima di tutto la prima forma di culto è legata ai morti. Secondo, che non esiste un'evoluzione chiara, precisa e lineare dal politeismo al monoteismo. Terzo, che le prime grandi forme artistiche patrimonio dell'umanità sono legate alla religione.